Sindaco Micci, che oggi è un primo sopralluogo qui all'ex carcere di San Vito, quali sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale? Gli obiettivi dell'amministrazione comunale sicuramente sono quelli di valorizzare questo edificio di un valore culturale inestimabile. Naturalmente siamo in compagnia anche dell'Università di Palermo, del demanio dello Stato, abbiamo fatto il sopralluogo, ci sarà, verrà redatto un progetto, poi si vedrà grazie all'impegno dell'Università e con i fondi del PNRR se possiamo realizzare e l'Università e anche uno spazio aperto alla città e anche un museo tematico. Professore Tuzzolino, qui potrebbe nascere una sede universitaria, quali sono i suoi progetti? Allora, intanto siamo dentro una sede che ha una importanza storica, culturale, architettonica fondamentale per la città di Agrigento ed è veramente scandaloso, ma dico scandaloso con tutte le riserve del caso perché non do colpe a nessuno, che questo bene culturale sia chiuso alla città e che abbia bisogno di una manutenzione, di una rimessa nel circuito culturale e sociale che merita Agrigento. Per cui con il Comune di Agrigento e d'intesa con il Rettore, con lo scopo di cercare veramente degli spazi per l'Università in modo tale che il campus universitario possa avere una sua riconoscibilità e una sua sede congrua dentro il Centro Storico di Agrigento, oltre al progetto che abbiamo messo in campo per l'ex ospedale di Via Tenea, ritengo che questi spazi siano da valorizzare e abbiano tutte le caratteristiche per accogliere degli spazi universitari. Il lavoro l'abbiamo iniziato oggi con il nostro sopralluogo, con la presa di coscienza dello stato di fatto e delle potenzialità dell'edificio, però il cammino è ovviamente lungo. Bisogna capire quali sono ora i percorsi finanziari, quali sono tutte le questioni, le problematiche che dovremmo affrontare, io dico di concerto tra Università e Comune di Agrigento, con tutte le forze culturali e le istituzioni della città. Mi sento di dire che questo percorso lo voglio portare avanti con tutte le mie forze, perché ci credo, e credo che ci siano tutte le prospettive per poter arrivare a una conclusione dignitosa di questo progetto, di questa valorizzazione che tutti insieme vogliamo portare avanti. Sicuramente è un immobile di rilevanza storica importante, chiaramente per il vissuto che c'è stato. È un immobile che si trova al centro storico, che sicuramente si intende sull'asse di Via Tenea, nella quale stiamo facendo la rifunzionalizzazione dell'immobile, certamente ha un suo valore, va pensato nell'ottica in cui l'amministrazione universitaria insieme al Comune di Agrigento voglia pensare di sviluppare la presenza dell'università qui ad Agrigento e va ripensato negli spazi che sicuramente offrono grosse potenzialità, ma bisogna fare un progetto esecutivo sopra per capire come renderlo degno della sua storia. Assessore Prodo, questo è un posto che lei conosce bene perché ha dedicato all'ex carcere di San Vito la sua tesi di laurea. Sì, un lavoro svolto nel 2002, quando l'immobile era chiuso già da 12 anni, è lasciato in completo stato di abbandono. Quel lavoro ha consentito poi, grazie al FAI, di poterlo aprire alla città diverse volte. I cittadini hanno avuto modo di conoscere questo luogo bellissimo. Oggi speriamo, siamo qui perché speriamo di portare a termine questo mio sogno iniziato tanti anni fa, grazie alla collaborazione del De Manio e dell'università. Noi siamo felicissimi di essere qui come delegazione FAI di Egrigento e ringraziamo il Sindaco di aver ricordato anche il nostro impegno perché dopo 17 anni di chiusura, noi nel 2011, grazie all'allora prefetto Ferrandino, siamo venuti qui a riaprirlo e poi l'abbiamo riaperto la città negli anni 2012, 2013, 2014. Quindi siamo lietissimi che c'è sia la possibilità addirittura dell'intervento dell'università, lo avevamo spiegato in quel momento. Speriamo che possano essere recuperati anche quei progetti, in particolare quello di Valeria Proto che a quel tempo faceva parte della delegazione, quelli dell'università, l'università di Egrigento e di architettura e poi anche quelli della soprintendenza. Quindi in bocca al lupo può essere anche una buona occasione per la Egrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.